delle tre firme per poter accedere alla categoria B se ne ha due con questa e la terza quindi dalla prossima competizione lei può competere con quelli della categoria 2 andiamo al prossimo concorrente 55 si prepari 53, 47 e 45 andiamo a vedere l'ingresso in palizzata è uscita perfetta andiamo a vedere subito il cambio un pivò, tubo qui vediamo l'ingresso in passerella buona, vediamo l'uscita perfetta tocca, vedete che tocca quindi non salta no 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 compie un rifiuto dei tre a disposizione bene l'ingresso in slalo a sinistra tutti e 12 i paletti no, ne salta uno gli fa fare l'ultimo perché deve uscire col palo a destra vede il tunnel ecco due perfetto l'ultimo stato ecco in questo caso il signore